Musica Domenica si vota in 17 comuni marchigiani per eleggere i nuovi sindaci in provincia di Peseo Urbino urne aperte a Frontino, Tavoleto e Terre Roveresca E sempre Domenica si potrà votare il referendum sulla giustizia sono 5 quesiti ai quali gli italiani sono chiamati a rispondere con un sì oppure con un no Un giovane di 25 anni cerca di baciare con la forza una ragazza in una discoteca d'Urbino schiaffeggia un'amica che tenta di difenderla e infine tocca le parti intime ad un'altra ragazza all'arrivo dei carabinieri da Inescandescenze viene arrestato Passeggia nella banchina del porto di Pesero ma per una distrazione cade in acqua un uomo salvato in extremis dagli uomini della Capiteneria A Fano partono i lavori di asfaltatura di numerose strade cittadine L'importo supera i 3 milioni e mezzo di euro Bentornati cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale Sul canale 19 c'è Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV che questa sera apre con il ritorno alle urne degli italiani per le amministrative Nelle Marche sono 17 come vedremo i comuni interessati quindi per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali ma c'è anche il referendum Simona Zonghetti Settimana calda per la politica italiana Domenica 12 giugno nelle Marche andranno al voto 17 comuni su 225 per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale Per 7 comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti l'eventuale ballottaggio è previsto per il prossimo 26 giugno Nessun capoluogo di provincia rinnoverà il primo cittadino A Pesero Orbino invece succederà in 3 comuni Tavoleto, Frontino e Terre Roveresche Per quest'ultimo si tratta della seconda elezione amministrativa dopo quella del 2017 successiva alla fusione A sfidarsi saranno il sindaco uscente Antonio Sebastianelli e Sauron Marcucci che è stato sindaco per 10 anni dell'ex comune di Barchi Nella stessa giornata e sempre dalle 7 alle 23 anche il resto degli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum sulla giustizia 5 e quesiti su cui i cittadini potranno pronunciarsi A partire dall'abolizione della legge Severino che oggi prevede l'incandidabilità e la cessazione dell'incarico di persone condannate in primo grado per alcuni tipi di reato Poi la modifica delle misure cautelari per la quale secondo i promotori è necessario porre un limite alla facoltà di arrestare le persone prima della sentenza Per il pericolo di reiterazione, reatti gravi esclusi E ancora la separazione delle funzioni dei magistrati che oggi nel corso della carriera possono passare dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero I voti nei consigli giudiziari per far sì che l'operato del magistrato possa essere giudicato anche da professori universitari e avvocati Ed infine il tema del CSM per l'eventuale cancellazione dell'obbligo di raccogliere firme per potersi candidare Chi vota sì sceglie di abrogare la normativa vigente, chi vota no sceglie invece di mantenerla Assessore Afano ci sono alcune sezioni elettorali che hanno subito delle modifiche e quali sono? La situazione dei seggi è la stessa del 2020, ci sono dei seggi che sono stati spostati temporaneamente Nello specifico sono i seggi 16, 15 e 21 che passano dal Nolfi al Torelli E poi invece c'è uno spostamento definitivo del seggio 31 che passa dall'ex scuola di Via Caprera alla scuola primaria Raffaello Sanzio Lo spostamento di questi seggi è stato già comunicato con un porta a porta da parte dell'ufficio a tutte le persone interessate Chi è sottoposto a trattamento domiciliare o è in isolamento Covid? Come può fare? Per le persone che sono in quarantena sarà necessario fare una richiesta di certificato di voto all'Asur Poi presentarla agli uffici elettorali che creeranno un seggio proprio a casa per permettergli di votare Comunque per qualsiasi informazione è necessario rivolgersi direttamente anche telefonicamente agli uffici elettorali Che in occasione del voto di domenica saranno aperti dalle 7 alle 23 Quindi sarà possibile anche proprio rinnovare il certificato, la tessera elettorale Invece avete messo in campo delle azioni per facilitare le persone diversamente abili a raggiungere i seggi? Sì, ci sarà a disposizione un attista con un mezzo che su previa chiamata dalle 8 alle 23 Andrà appunto ad accompagnare le persone che avranno necessità di farlo È necessario comunque chiamare al numero di telefono in sovrimpressione oppure che si può anche trovare sul nostro sito È obbligatoria la mascherina? Perché c'è stata un po' di confusione No, la mascherina chirurgica è fortemente consigliata ma non obbligatoria Per qualsiasi informazione l'ufficio elettorale oltre al giorno delle votazioni rimarrà aperto al pubblico anche domani Con un orario continuato dalle 9 alle 18 L'esito del referendum sarà valido se alle urne si recera il 50% più uno degli aventi diritto al voto Ora dunque l'incognita è capire se gli italiani domenica andranno a votare Giada Coacci ha sentito per noi il parere della gente Domenica 12 giugno si terranno nel nostro comune le votazioni per il referendum abrogativo in tema di giustizia Ha intenzione di partecipare? Ancora non lo so, ancora non sono sicuro di andare E è d'accordo con questa abrogazione delle leggi? Probabilmente alcune sì Ma io credo che la gente in generale non conosce il problema perché è un problema troppo specifico sulla giustizia Chi ne capisce? Lei parli con tutta la gente che ne sanno del vero problema Quindi è solo un problema politico Io sarà per la prima volta e l'ho già dichiarato in altra sede che non andrò a votare Perché ritengo che la gente non sia preparata, matura Per sottoporsi a un referendum su temi che dovrebbero essere squisitamente tecnici E dovrebbero essere la Camera, il Senato, le commissioni a occuparsene Non può essere dato in mano, fra virgolette, al popolo senza una preventiva informazione Per cui io andrò a votare Io non ci vado, per la prima volta non vado a votare Da profana non penso niente perché non so a cosa servono Secondo me doveva essere un referente, un fatto tra quelli del mestiere Tra magistrati, giudici, questa gente qui Loro lo sanno, se io voto sì o no, che cosa dico? Non lo so se faccio bene o faccio male Dovrei conoscere la Costituzione, dovrei conoscere il regolamento So che è tutto un fatto politico e quindi poi dopo facciamo tutto un mistone Quindi crede che i cittadini non siano abbastanza informati o competenti? Le previsioni sono di un 30% se va bene Quindi è un referendum sprecato perché costano soldi anche quelli La verità sono scettico perché non so se il referendum risolve i problemi della giustizia Comunque sono per esempio orientata ad andare Soprattutto per votare no alla Severino Per quale motivo? Perché se uno è stato condannato in via definitiva Non è neanche coerente con la Costituzione che vada ad occupare posti nelle istituzioni Per quanto riguarda le altre leggi? Le altre leggi non è che il referendum risolve Io credo che sia compito del Parlamento a risolvere i problemi della giustizia Che problemi ci sono, non è che non ci sono Però il referendum tutt'a più potrebbe dare una spinda Come dire al Parlamento a risolvere Ma ormai questo Parlamento è a fine corso Quindi crede che i cittadini non siano abbastanza informati o competenti per trattare la tematica? Sì, io sono d'accordo con lei Effettivamente sono molto molto specialistici E per cui si fa fatica a capire il senso del quesito referendario E ha attenzione di votare? Sì, penso di sì Più che altro per dovere civico Nonostante lo trovi poco interessante come referendum Perché lo trova poco interessante? Diciamo che i quesiti non avevano bisogno di essere messi a referendum Ok, crede che i cittadini non siano abbastanza competenti o informati per votare? Penso che ci sia, sì, abbastanza una buona dose di disinformazione ma voluta Nel senso che i cittadini secondo me non lo vedono come un referendum voluto dai cittadini E quindi poco interessante da questo punto di vista Come abbiamo potuto ascoltare sono pochi i cittadini favorevoli a questo referendum di domenica 12 giugno Molti si astengono in data la disinformazione E sicuramente l'incompetenza in questo ambito e dicono no quindi al referendum L'appuntamento, lo ricordiamo, è questa domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23 nel comune di Fano Speriamo in un maggior coinvolgimento nei prossimi giorni La cronaca è con i carabinieri di Urbino che hanno arrestato un 25enne di origine straniera E pregiudicato, accusato di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale Il giovane la notte scorsa all'interno di una discoteca urbinate avrebbe avvicinato un gruppo di studentesse di origine statunitense ed italiana Tentando in almeno due occasioni di baciare con forza e senza consenso una delle giovani presenti Al rifiuto della ragazza il 25enne l'avrebbe bloccata per i polsi e afferrata per il collo Poi l'avrebbe spinta a terra causandole escoriazioni e un forte shock emotivo L'aggressore avrebbe dato anche uno schiaffo ad una delle persone lì presenti, all'amica della vittima E palpato le parti intime ad un'altra studentessa Giunti sul posto i militari hanno fermato il giovane che ha opposto resistenza Dopo averlo arrestato i carabinieri lo hanno portato nel carcere di Pesaro E brutta disavventura anche per un uomo residente nell'entroterra Che mentre passeggiava lungo la banchina del porto di Pesaro è caduto in acqua E' successo ieri pomeriggio all'altezza della sede della Capitaneria di Porto Le grida d'aiuto hanno messo in allarme un militare della Guardia Costiera Che a bordo di una motovedetta è riuscito a mantenere a galla il malcapitato E a chiamare i colleghi della vicina struttura L'uomo che con non poche difficoltà per fortuna è stato poi portato in salvo E adesso invece chiamiamo argomento perché i fanesi sicuramente saranno contenti di questa notizia Finalmente partono i lavori di asfaltatura Un importo di 3.700.000 euro L'elenco delle vie è lunghissimo Per cui in un servizio giornalistico all'interno di un telegiornale Non era il caso di inserirle tutte Però se siete interessati e volete sapere, conoscere se la vostra via La via nella quale state è nel programma delle asfaltature Date un'occhiata al nostro sito internet occhiolanotizia.it Intanto vediamo invece il prossimo servizio che riguarda appunto questa importante iniziativa del Comune Erano stati annunciati mesi fa e ora vedono finalmente la luce Dopo le tante richieste dei cittadini e decine di segnalazioni arrivate anche alla nostra redazione Dalla prossima settimana partiranno i lavori di asfaltatura delle strade comunali Per un totale di 3.700.000 euro La lunga lista delle vie interessate comprende anche la strada comunale ferriano e quelle della Cerbara e della Galassa Molte vie di Ponte Sasso, di Sant'Orso per il completamento degli interventi già iniziati Di Montegiove e Carignano Poi le zone dell'ex campo d'aviazione del Vallato Diverse vie del quartiere Fanella Alcuni tratti di via Roma e di Cucurano Verranno asfaltati inoltre i controviali di viale Cairoli Le vie Campanella e Tognolo a Rosciano di Fano Così come via Inaudi nel tratto che va dalla rotatoria che porta ai parcheggi del Fano Center Fino alla rotatoria di via Meda E nel tratto di accesso ai parcheggi del Brico Center I lavori verranno eseguiti con l'utilizzo di materiali e tecniche diversi E più performanti rispetto a quelli a suo tempo utilizzati In queste settimane, in questi giorni Tanti cittadini sollecitano giustamente l'intervento sulla manutenzione delle strade Io in più occasioni avevo annunciato che avremmo asfaltato molte nuove strade Una gara d'appalto è già stata espletata con già la ditta vincitrice per 3 milioni e 7 Altri oltre 2 milioni seguiranno E dovevamo partire con le asfaltature nuove nel mese di aprile Purtroppo tutto l'aumento delle materie prime L'aumento anche dell'energia Ha creato una serie di condizionamenti sulla partenza di molti lavori Tra cui le nuove asfaltature In queste settimane c'è stato un dialogo Siamo riusciti adesso a superare l'impasse Quasi tutta la città verrà interessata Partiremo in alcune parti Teremo conto sia delle strade interne Sia di quelle più trafficate In alcuni quartieri partiremo con leggero ritardo Perché ci sono dei lavori in corso di sottoservizi Ovviamente le asfaltature saranno fatte dopo Però tutte quelle annunciate da lunedì partiranno Partiranno due ditte della cordata che ha vinto Fra l'altro sono anche ditte locali del nostro territorio Quindi questa è una bella notizia Per cui volevo annunciare che da lunedì partiranno le nuove asfaltature Invece Aset fa sapere che ci sono dei lavori alla rete idrica Per cui verrà sospesa l'acqua Nella giornata di martedì 14 giugno Dalle 8.30 alle 13 Verrà sospesa l'erogazione dell'acqua In alcune zone periferiche di Fano Le aree interessate sono quelle che vedete nel cartello Inoltre nelle vie limitrofe si potrà verificare un calo di pressione In caso di condizioni meteo avverse Naturalmente i lavori in programma verranno rinviati Da domani invece riaprirà provvisoriamente Al transito il percorso ciclo pedonale lungo il torrente Arzilla Nel tratto compreso tra il ponte pedonale e Viale Romagna Aset infatti ha concluso parte dei lavori E gli interventi verranno sospesi in concomitanza della stagione estiva L'obiettivo è quello di consentire ai pedoni e ai ciclisti Di poter raggiungere la zona mare Evitando l'attraversamento della statale adriatica Il completamento dell'opera proseguirà poi dal mese di settembre Si terrà in contemporanea in cinque luoghi delle Marche Lo screening gratuito delle carotidi Per la prevenzione delle malattie cerebrovascolari A Fano sarà eseguito questo screening a Palazzo San Michele Sensibilizzare i cittadini al problema delle malattie cerebrovascolari In particolare di quelle che interessano le arterie E' questo l'obiettivo dell'iniziativa carotidi in piazza nelle Marche La giornata di prevenzione in programma sabato 11 giugno dalle ore 9 alle 15 L'evento si svolgerà in contemporanea nei comuni di Fano, Fabriano, Civitanova Marche, Fermo e Ascoli Piceno A Fano lo screening si terrà nella sala di Palazzo San Michele in via Orco d'Augusto 2 Ad opera del personale medico dell'unità operativa di medicina interna dell'azienda ospedaliera Marche Nord Diretta dal dottor Gabriele Frausini E' un'iniziativa nata dalle medicine interne delle Marche Con il supporto dell'azienda Marche Nord e del comune di Fano Per fare prevenzione Noi sappiamo che la terosclerosi è la prima causa di malattie e di morte nel mondo occidentale Riuscire a cogliere i primi segni di questa terosclerosi è fondamentale E andremo a vedere le carotidi delle persone che si presenteranno Per vedere se sono normali magari O se c'è qualche segnale che ci possa mettere sul chi va là E poter mettere appunto tutta una serie di misure che ci sono ed estremamente efficaci Per evitare che la malattia vada avanti Nella sala allestita per l'occasione i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente All'eco color Doppler delle carotidi Un esame non invasivo Non sarà necessario l'appuntamento E al termine dello screening verrà rilasciato un documento Con i risultati degli accertamenti effettuati Nel caso in cui si rendesse necessario un approfondimento Il personale medico prenderà in carico il paziente E programmerà ulteriori esami nel reparto di medicina interna Cercheremo di scaglionare un pochino le persone E cercare di evaderle in tempi utili Sono due ecografi a disposizione Saremo in tre ad alternarci a fare questi esami Ma credo che sia un'esperienza estremamente importante Adesso torniamo a parlare della crisi del mondo della pesca Perché la senatrice Rossella Cotto Sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali Ha risposto all'appello di ieri lanciato dal sindaco di Fano Massimo Seri Nelle ultime settimane ha assicurato la senatrice Ho avviato interlocuzioni con la direzione generale del ministero del lavoro E con il ministero delle politiche agricole Condivido le preoccupazioni dei pescatori fanesi e marchigiani Ha concluso a Cotto e sono disponibili ad incontrare le istituzioni locali E una rappresentanza dei lavoratori del comparto Per trovare risposte ad una situazione emergenziale Che vive ancora di incertezza Donna, guerra, balli, culture diverse, cucina etnica Sono gli ingredienti della prossima edizione della Festa dei Popoli Che è in programma questo fine settimana a Fano Filippo Pucci Dopo l'edizione del 2019 che ha visto la partecipazione di tante persone Torna con un doppio appuntamento la Festa dei Popoli Una manifestazione promossa dall'ufficio Migrantes Diocesano In collaborazione con l'associazione caritativa diocesana Giustizia e Pace Nell'ambito dell'iniziativa Impronte Femminili dell'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Fano Con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche E il contributo di numerose associazioni, realtà diocesane e comunità straniere del territorio L'obiettivo dell'iniziativa, lo dice il nome stesso, la Festa dei Popoli È quello di creare un'occasione di incontro Di incontro tra le varie etnie e gruppi linguistici presenti sul nostro territorio E ovviamente noi italiani E questo per crescere sempre più in una cultura dell'incontro Per che ci sia amicizia, per che ci sia collaborazione bisogna conoscersi L'evento ad ingresso gratuito partirà sabato 11 alle 18.30 All'interno della Chiesa del Gonfalone con la presentazione del libro Siamo in guerra, l'anno che per poterci curare Non andammo da nessuna parte della dottoressa Fatima Farina Il programma poi proseguirà nella giornata di domenica 12 giugno Con diverse iniziative e attività A partire dalle 16.45 all'Anfiteatro Rastat a Sassonia di Fano Pomeriggio avremo un laboratorio multiculturale per i bambini dai 6 ai 12 anni Che lavoreranno insieme per preparare una danza Una danza che verrà proposta poi alle persone che convengono alla festa Nel mentre gli adulti potranno avvicinarsi, conoscere, approfondire le varie etnie presenti Attraverso questa iniziativa che abbiamo chiamato Mi metto nei tuoi panni Il momento centrale sarà l'ascolto di testimonianze Il tema è la donna e le guerre Allargando e accendendo i riflettori su tanti conflitti e situazioni di violenza Che normalmente vengono dimenticati Noi vogliamo partire da una testimonianza Che riguarda la lotta di liberazione algerina dal colonialismo E poi la testimonianza di una ragazza afogana Di una ragazza che ha vissuto il lager libici per venire da noi Una famiglia della Palestina per accendere i riflettori appunto su quello che succede nella striscia di case E poi ovviamente dopo ci sono gli stand gastronomici e queste danze e canti proposte dai gruppi etnici presenti alla festa Assessore, un evento che rientra nell'ambito di impronte femminili Esatto, impronte femminili quest'anno è andata al tema del multiculturalismo Ed è stato normale l'incontro con Don Sandro, il gruppo Migrantes E tutte le comunità di Fano impegnate e desiderose di mettere in piedi un appuntamento di festa Di cui sicuramente c'è tanto bisogno Domani c'è anche la macerata a Loreto Un appuntamento imperdibile per tanti che raggiungono la cittadina marchigiana da ogni parte d'Italia Fano TV trasmetterà in tutta la regione Marche sul canale 19 La Santa Messa a partire dalle 20.30 Quindi il Magazine 7 per Occhio domani sera va in onda come zona d'anticipo Quindi alle 20 per dare spazio appunto poi alla diretta della Messa e della Macerata a Loreto Io mi fermo qui, grazie per averci seguito Domani mattina come sempre alle 7 L'appuntamento con la rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti Arrivederci Grazie